Siamo qui alla partita Crystal Palace in bianchini, risultato 5 a 2 per gli in bianchini. Ora Como, Como prova al destro, fallo laterale per gli in bianchini. Meola in mezzo per Monturi che non aggancia, immessa per il Crystal Palace, ridi sul pallone. La palla è fuori, bianchini con calma, risultato 5 a 2, gol di Como. Ecco la marca, la marca, un dribbin, parte il tiro, la palla è out. Paolillo alla rimessa. La palla è in avanti per Como, tenta l'aggancio, la palla è dentro. Il dribbling di Como. Meola salta l'uomo, il tiro e la palla è fuori. A volo è la battuta. Como la fa girare per Giancotti. Giancotti cerca il numero su Redi. Redi capisce tutto, la palla per Tagliamonte. Fallo. Sarà punizione per il Crystal Palace. L'albitro dice punizione. Tagliamonte, sistema il pallone. Peppe come commenti? Peppe. Peppe come commenti? Vediamo la barriera, posizionata da Paolillo. Ecco, Avolio. Avolio parte il destro, rimpallato dalla barriera. Ecco, Como prova il tiro in porta, la palla è fuori. Como, tenta l'erogolle. Ecco, può ripartire ancora gli imbianchini. Fermato i toridi. Ora Monturi. Per Meola. Meola cerca l'aggancio. Ci riesce. La marca capisce tutto. Ora Como ancora, può saltare l'uomo. Como, danza sul pallone. Vale per Giancotti, prova il destro. Giancotti, ma dopo devi rimanere. Avolio. In avanti. Giancotti è pressato. Due uomini su di lui. Il tiro di Como. Giaccotti, la marca intercetta. Como, attenzione, non lucco per Monturi. Perde il pallone. Paolillo l'ha rimesso. La palla scivola su fondo. Ma Como non c'è Como. Como! Como! Avolio, alla battuta. Il Tiagone. Attenzione, il tiro di Redi. Ancora Giancotti. Calcio d'angolo per il Crystal Palace. Due minuti al termine di questo primo tempo. Su risultato ancora di 5 a 2. Ancora Giancotti. Giancotti, la palla per Como. Lo stacco di Como. La palla esce fuori dal campo. Perché Corrado Lanza gioca a porta? Como! Sono Giancotti. Ma dove vuoi rimani? Saluta il pubblico. Como! Cuccaro, io rimango. Carlo, ma avete vinto. Uomo! Francesco! Francesco! Gio, rimaniamo o faccio una ternata? Sì, Cuccaro, rimaniamo. Uomo doppio uomo. Eccolo, ritornati alla partita di Stafalas in bianchini. Sultato 6 a 2 per gli bianchini. Attenzione, questo calcio d'angolo. Como ancora in area di rigore. Si destriggia. La palla è fuori per Monturi. Como ancora. Como è pressato. Numero. Mamma mia, ne salta due. Si gira su se stesso. Como salta il terzo. Può saltare anche il quarto. Como in area di rigore. Si gira. Mamma mia, che gol di Como. Che grandissimo gol di Francesco Como. 7 a 2. Ecco, Monturi. Istiga gli avversari. Monturi, ragazzi. Ecco, parte la marca al destro. Ribattito dalla barriera. Taglia Monte. Perde palla. E finisce il primo tempo. E finisce il primo tempo.